Alleluia Handball Club Monteprandone I Verdi sbancano Camerano e si sbloccano dopo otto mesi Prima vittoria in campionato e ultimo posto in classifica del girone C di Serie A2 lasciato a Bastia Umbra, ospite sabato 9 dicembre al Collegio Iuso Chissà che non sia la svolta Nonostante l'assenza del capitano De Cugni, del vice d'Angelo, di Funario e di Cocco l'HC sfodera la migliore prestazione stagionale Primo tempo con Monteprandone sotto nel punteggio una sola volta al tredicesimo 5-4 Da lì è un crescendo dei Verdi Si va a riposo sul 12-13 Nella ripresa, grazie a una difesa di ferro, insuperabile Mucci, Monteprandone accelera In attacco Griglia Stellare finirà col contare 11 gol Sabatini e Marucci quasi E allora l'Handball Club esagera, finale sul 20-31 Ulteriore nota lieta del pomeriggio d'Orico Il rientro dopo due mesi del classe 1999 Quaia 3, 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on! Grazie a tutti!